Ciao ragazzi sono Ceno Kakuna ed oggi siamo qua tornati con un nuovo video in Minecraft per mostrarvi oggi come creare un vero e proprio trono in gioco secondo me perfetta come decorazione per un castello ma prima di iniziare col video vi consiglio di mettere like a quest'ultimo iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun nuovo video ma detto questo ragazzi beh buona visione come prima cosa ovviamente noi creeremo una fosse nemmeno due blocchi dove al fondo di quest'ultimo ci metteremo una slab di pietra e anche un armostand non vorrei che cosa facciamo beh prenderemo un elmo di pelle e in seguito anche un calderone e un secchio d'acqua e in seguito noi metteremo un secchio d'acqua e in seguito la coloreremo proprio di rosso e non vorrei che coloreremo anche il nostro elmo di pelle e lo metteremo all'armostand ora cosa dobbiamo fare beh sarà molto semplice dobbiamo piazzare praticamente due slab di quarzo ovvero in questo senso e non vorrei che piazzarne una sopra l'armostand stesso e in seguito sopra la slab di quarzo stessa piazzeremo due pistoni ed in seguito il primo noi lo useremo per spingere la slab stessa dentro l'armostand ovvero in questo modo ovviamente noi lo prenderemo ed ecco fatto con un blocco di pietra rossa perfetto ovviamente l'elmo di pelle rappresenterà il cuscinetto del trono stesso ma in seguito cosa dobbiamo fare beh a distanza di un blocco dalla slab stessa noi dobbiamo piazzare sotto e noi dobbiamo creare una fossa per piazzare sotto così una torce di pietra rossa e in seguito anche una bottola di ferro così verrà attivata e ovviamente faremo questa cosa anche dall'altra parte perfetto quindi creiamo una fossa e sotto la parte dove sarà messa la bottola di ferro è perfetto ed ora ragazzi passeremo a creare un banner personalizzato da mettere al trono infatti per creare quest'ultimo noi faremo uso di un colorante rosso uno bianco e in seguito anche delle liane ora vi farò vedere come fare beh ovviamente come prima cosa noi piazzeremo il nostro banner bianco dentro la cosa del crafting ed in seguito sopra metteremo un colorante e anche una liana perfetto ovviamente verrà fuori questa cosa noi cosa faremo beh possiamo mettere ora i coloranti che abbiamo ed in seguito riposizioneremo il banner stesso e per prima cosa noi metteremo ben tre coloranti di rosso verso giù in senso diagonale ovvero così ovviamente ora dobbiamo fare un'altra cosa ovvero ripostiamo ovviamente il colorante ed in seguito ripiazzare il nostro banner questa volta fare una diagonale con i coloranti rossi verso l'alto perfetto ora cosa dobbiamo fare beh riprendere come sempre il nostro banner ed in seguito ricoprirlo tutto di colorante bianco ed ecco fatto sembra quasi completo e la decorazione è fatta anche molto bene ma come ultimissima cosa è già completa noi riposizioneremo i banner verso il basso ed in seguito al centro ci metteremo un colorante rosso ed ecco qua ragazzi che il nostro banner è spesso analizzato e completo ora come ultima cosa per fare ovviamente qualcosa di trono noi useremo ben due botole di legno questa è la prima ovviamente piazzeremo anche l'altra con mettendoci in modalità furtiva perfetto e ora posizioneremo il nostro banner sempre in modalità furtiva perfetto e quindi ragazzi beh il nostro trono è totalmente completo ovviamente ragazzi il video finisce qui spero che vi sia stato rinunimento ovviamente lascio un bel like e se siete commentate e ovviamente faccio un piccolo avviso per il video di domani infatti ragazzi domani sicuramente uscirà un video su come togliere la licenza nell'unaggiornamento di minecraft ovvero la 1.2 beta build 2 completo ovvero praticamente senza licenza infatti beh che posso dire ovviamente per vedere questo video voi dovrete rimanere sintonizzati per domani ma per il momento che posso dire ragazzi beh ciao e alla prossima gente